Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio tra Martina e Andrea. Che fai? Se qualcuno è contrario a questo matrimonio, parli ora o tazza per sempre. Attenzione. Ma chi arriva? Ma Renzo? Renzo. No. Andrea. Andrea. No. Ma Renzo. Andrea. Nascerà una nuova love story. Carrenza Andrea. Ta-ra-ta-ra. Ta-ra-ta-ra. Viva gli spazi. Viva. Viva gli spazi.